Yo, bella a tutti ragazzi, sono Factor Mode Oggi vi presento un video di Fortnite un video molto diverso da quello che porto di solito e niente... c'avevo la missione da fare in Montagnolo e le Madredette dovevo fare 5 decisioni e questo è il risultato che vi è successo Peccato che il finale, guardatelo fino alla fine mi è andata molto molto male però... niente, buona visione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.